C'è stato un episodio che ha condizionato la vita di Gabriel Garco. Mi trovai nello scoppio della villa Sanremo, che costò la vita all'anziana proprietaria. Quell'incidente mi ha cambiato la vita e per riacquistare la mia serenità quotidiana sono andato in terapia psicologica. Sentire la morte così vicina è stata una cosa terribile. Era mattina e stavo dormendo. Mi sono ritrovato sepolto sotto le macerie e lì ho creduto che fosse veramente la fine. Ed esserne uscito salvo è stato un vero e proprio miracolo. Ho superato lo shock per la voglia di salutare i miei genitori dal palco del festival. Ha dichiarato al Corriere della Sera. Per restare aggiornato sul gossip iscriviti al nostro canale YouTube e seguici sulla nostra pagina Facebook. Per restare aggiornato al Corriere della Sera